Non ce l'ha fatta ed è morta agli spedali riuniti di Livorno dopo alcuni giorni di ricovero. La donna di 46 anni, che nel pomeriggio di giovedì 17 giugno, una settimana fa, era stata colpita da un capitello che si era staccato dalla facciata di un palazzo, nel pieno centro della città labronica. Un incidente assurdo sulla cui dinamica. Sta indagando la procura? Con il distaccamento di una parte di cornicione che vedete nelle immagini, dal peso di circa 10 kg? I immediati, lo ricordiamo, furono i soccorsi, ma il trauma subito alla testa. Era troppo grave per essere rimarginato i medici in questa settimana. Hanno tentato ogni via per salvarla, le sue condizioni. Sono sempre risultate disperate e nelle scorse ore. Il decesso all'interno della terapia intensiva, la donna, lo ricordiamo, stava uscendo da un negozio e stava passeggiando sul marciapiede quando il capitello si è staccato ed è stata colpita in pieno.